De più centurioni! De più du centurioni! De più trecenturioni! Una volta sono arrivato a settecento, unioni, e poi però ero più in forma, c'avevo due mila anni di meno, non ne avevo tutte queste coltellate sulla schiena. È arrivato il grande Giulio Cesare, devo dire una grande accoglienza degna di un grande imperatore, nonostante una presentazione di merda. Tutte e due, tutte e due. De merda non è una parolaccia, ragazzi, è latino. E de mer, de merdimus merdastimus est, è latino. Tu sei il centurione, tu, Mauro Villata, fai una cosa per me e per tutti i romani in sala. Vai di là e date in pasta alle tigri. Centurione, vieni qua. Centurione, vieni qua. Allora, adesso tu sei nel mio braccio destro, praticamente sei il portavoce, la spalla, tu sei concentrato su di te. Quindi abbiamo bisogno di una certa confidenza e di un escamutage, che è questo qua. Ogni volta che io appoggio la mano sulla spalla, tu dovrai dire, perché? Facciamo una prova. Ok. Perfetto. Hai spinto il microfono? Sì. Abbiamo spinto, chi l'ha spinto? È stato Mauro Villata con pezzi di... Prova, prova. Pezzi di merdino, è latino. Pezzi di merdino, stai, è latino. Perchè? Perfetto. Questo è quello che serve al grande Giulio Certo. Perchè? Perfetto. Perchè? Questo è. Questo è quello che serve. Perchè? Perfetto. Perchè? Perchè? Questo. Perchè? Perchè? Non serve altro. Perchè? L'ha visto? Perchè? Questo. Perchè? Perchè sì. Come ti nomini? Romano. Nel nome vero? Enzo. Enzo? Bellissimo nome Enzo, però non ti puoi chiamare Romano. Serve un nome romano, ma non romano perché è troppo importante. Non può essere più importante Giulio Cesare. Perchè? Perchè sì. Quindi ti devi trovare un nome romano che potrebbe essere Tizzo, Gaglio, Sempronio, questo non mi proprio... Francesco, Ilari, Cristian, Chanel, Romani, De Rosso è un nome romano, Murigno potresti chiamarti con il nome romano, però per tutti noi sarei Cassio. Ok? Perchè c'è la faccia da Cassio. Che non è latino. È Cassio. Cassio! Ok, bravissimo. Ok? Perfetto. Ok, eccolo. Ok, perfetto. Vieni più vicino se non casco. Ah, grazie! Madonna che riflessi! Svegliatelo! Svegliatelo! Ok. Perché c'è stato un momento che te ne stavi andando. Ok. Perché sì. Ok. Ecco. Ok. Perfetto. Lo faccio. Ok. Lo faccio per prendere confidenza perché così anche se tu tu hai chiesto un'altra cosa tu sai che si appoggio. Ok. Bravissimo. Ok. Ok.